Finita la nostra valigia, siamo finalmente pronti per partire e una volta arrivati a destinazione la prima cosa da fare sarebbe aprire la nostra valigia e riporre con cura i vestiti nei armadi o nei cassetti. Meno restano nel bagaglio infatti e meglio è. Se avremmo riposto tutto per bene in valigia, i nostri vestiti saranno perfetti e senza pieghe. Ma se proprio dovesse scappare qualche piccola grinza vi svelo un segreto. Andiamo in bagno e appendiamo i vestiti sull'esterno della doccia. Facciamo scorrere dell'acqua calda e chiudiamo la porta. Lasciamo che i vestiti stiano così a contatto con il vapore per almeno 15 minuti e anche le ultime pieghe saranno messe fuori gioco. Rientrati dalle vacanze poi ricordiamoci di aggiornare la lista che avevamo fatto segnando subito tutto quello che ci siamo accorti di avere scordato o magari di avere portato inutilmente. Ne faremo tesoro per il prossimo viaggio.